Sì, sì, baracca all'ultimo, andiamo madonna, che sofferenza, che sofferenza, veramente una partita suffering, ultra suffering, ma alla fine godo, 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 godo e godo, mamma mia, una vittoria veramente... Mamma mia, guarda, siamo avvantati dopo due minuti con Zola, siamo capaci di farci rimontare, prendere due gol veramente da Serie B, poi la pareggi, fai 2-2, e poi, con un gran gol di Beltran, veramente un grandissimo gol, e poi fai fare un gol all'ora e poi la ripilli, mamma mia, guarda, è stato veramente un parkour questa partita, una godura immensa, ma ragazzi, troppa fatea, troppa fatea, veramente c'è. Io, cioè, sono dell'idea veramente che con la Roma sono molto preoccupato, perché la Roma oggi ha vinto 4-0 con il Brighton, cioè, era un campo orribile, sono d'accordo con l'arbitraggio scandaloso, perché comunque il primo gol di loro non c'era il calcio d'angolo, però ragazzi, si fatica veramente tanto, si fatica veramente tanto, non si può fare queste figure, non si può, meno male si è vinto, meno male si è vinto, ma meno male, ma meno male, veramente. Mamma mia, mi raccomando, non sottolineiamo, ma ritorno, perché questi verranno lì agguerriti un'altra volta, meno male abbiamo vinto oggi, meno male, veramente. Una prestazione veramente, non so nemmeno come descriverla, ha tanti bassi veramente dietro, io penso Milenkovic e Ranieri non c'è almeno abito a nulla, veramente, con Pierrotte e quell'altro. Davanti meglio, perché alla fine, ogni volta andati verso la porta, potevi farli male, e gli hai fatto male. Quindi, però, c'è troppo, non c'è equilibrio fra difesa e attacco, ragazzi, cioè, subiamo veramente l'impossibile, creiamo veramente tanto, e poi, c'è, boh, mamma mia, veramente, incazzature di tutto è successo stasera, veramente, però godo, perché queste squadre qui con cui abbiamo giocato stasera, questa squadra qui non dovrebbe nemmeno giocare queste competizioni, non le dovrebbe nemmeno giocare, per tutti i motivi, e non sto nemmeno qui a dare l'elencarmi, non dovrebbe nemmeno giocare, godo, 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 e godo, ora c'è Roma, loro di nuovo e ritorno a Firenze giovedì prossimo, alle 18.45, e poi c'è l'Atalanta, domenica 17, alle ore 18, a Bergamo. Quindi, ragazzi, è un tour de force, questo ormai, è un tour de force, un tour veramente pieno di insidie, e poi, dopo la sosta, c'è il Milan, c'è l'assimilare con l'Atalanta, però, ragazzi, così, no, così, no, abbiamo vinto, bisogna godere, perché abbiamo avuto, finalmente, lo dico, abbiamo avuto, finalmente, un po' di culo, bisogna essere onesti, però, ragazzi, troppa fatica, veramente troppa fatica, veramente troppa, cioè, ragazzi, abbiamo preso, veramente, delle imbarcate, stasera, io penso di non averle mai viste, io penso di aver visto delle imbarcate così, veramente, da, da, dallo scorso anno, veramente, in cui, se vi ricordate, si prese gol con lo spezzo uguale, si prese gol con il West Ham, tutti errori difensivi, se vi ricordate, cioè, e per fortuna, e per fortuna abbiamo vinto, mamma mia, mamma mia, poi è una vittoria importante per il ranking, che comunque dai un, un bello slancio, cioè, un bello slancio, dai comunque il tuo contributo per il ranking per l'Italia, per il quinto posto di Champions League, cosa, noi non vedremo mai, sicuramente, però, ragazzi, veramente, io chiedo, veramente, di svegliarci, perché è da, è da qualche partita, che siamo così, ma, cioè, da qualche un parolone, hai giocato una gran partita con la Lazio, e poi ti sei riperso col Torino, veramente, mamma mia, suffering estremo, suffering estremo, ma godo, 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 e godo, mamma mia, meno male, onore a chi è andato stasera a Budapest, veramente, però, si godo, meno male, forza ragazzi, forza viola, siamo tutti con voi, per ora c'è da giocare meglio contro la Roma, perché questa roba qui, gioca veramente, veramente bene, forza ragazzi, sempre forza viola, anche se soffriamo, e nulla, noi ci vediamo, ciao ragazzi.